Mi chiamo Francesco Dell'Agnello e lavoro in Veneta Cucine nell'ambito dell'ufficio ricerca e sviluppo. Continuare a ricercare nuovi talenti e nuove persone in grado di lavorare con noi è una priorità della nostra azienda. Lo studente Pellin della Naba ha partecipato in maniera attiva ma determinante, in maniera incisiva sullo sviluppo di alcuni progetti realizzati sia con l'architetto allo studio De Lucchi che con lo studio Giovannoni Design. La studentessa Cardicova, anche lei del progetto Naba, ha contribuito e ha collaborato non solo sullo sviluppo della parte hardware, della parte diciamo tecnico progettuale ma anche abbiamo esplorato con lei anche delle aree legate alla rappresentazione cioè di quello che è il tipo del lavoro diciamo che un progettista deve fare.